Ragazzi, colpo della Fiorentina e vi devo dire non era facile per niente sostituire Lucas Torreira Allora, Mandragora sarà un nuovo giocatore della Fiorentina E' stato pagato 8,2 milioni più un bonus da un milione Questo giocatore veniva prima dalla Juventus Sarà un nuovo centrocampista di questa squadra Fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi riuscirà a sostituire bene quello che è Lucas Torreira Secondo me sì, ed è anche un bel colpo Io butterei su un voto tra il 6,5 o il 7,5 Però forse più tra il 6,5 Va bene? Ciao ragazzi